Oggi abbiamo avuto una pausa in questo tempo instabile che ormai sta accompagnando dall'inizio di giugno tutte le nostre zone. Potremmo dire che è l'intervallo tra il passaggio di una perturbazione e la successiva, in quanto permane una discesa di aria instabile dal nord atlantico, che instabilizza il tempo e lo stabilizzerà, diciamo subito, per gran parte anche la prossima settimana. Quindi notizie non belle per questo fine settimana. Infatti prevediamo su Venezia e sul veneziano per domani in mattinata già qualche piovasco, poi un intervallo, poi di nuovo piovaschi con possibilità di temporale e poi un'attenuazione durante la sera. Per domenica lo stesso, una nuvolosità variabile, però poi per gran parte della giornata avremo queste precipitazioni che tenderanno anche a estendersi ed assumere, ripeto, localmente e temporaneamente carattere temporalesco. I venti saranno deboli con qualche rinforzo dai quadranti meridionali, le temperature con poca escursione termica, 19-20 gradi le minime, 22-23 gradi le massime, per finire l'alto atliatico è previsto mosso.